Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Forne. Ebbene sì, raga, la nuova season, ovvero la season 5 del capitolo 2, è iniziata. Come avrete potuto vedere tra i vari trailer, sì, sarà anche The Master Wars, però, delle buone notizie, ovvero, è tornata a Pinaco Dipendenti con delle variazioni, è tornata all'origine nel Parco Pacifico, nuovi punti di interesse nella mappa, e ho visto che c'è la nave di Viking, quindi sono curioso. Però, andiamo subito a guardare il pass battaglia, quindi, io shoppo sempre questo qua, dei primi, normale, perché preferisco sbloccare piano piano. Ovviamente, se volete supportare il tuo creatore, JRN, Trattino Central, Channel, Yt, mi raccomando, raga, taggatemi, perché probabilmente poi farò un'estrazione dove regalerò io il pass battaglia. Detto ciò, confermiamo, e andiamo a comprare il pass battaglia. Conferma acquisto. Ah, buono, al primo livello troviamo subito il Mandaloriano. Ah, è fatta benissimo. Ah, con le sfide, quindi probabilmente avrà degli stili. Ok. Andiamo subito a vedere tutti i livelli. Questa è la canzone dell'evento, probabilmente. Sì. Allora, completo l'incarico per potenziare l'armatura. Ok. Questa è l'icona standardo. 100 V-box. Vediamo un po' questo com'è. Ok. Questo, raga, è bellissimo. Spero ci sia qualche backpack con lui da mettere insieme a questa skin. Bellissimo, raga. Sarà enorme da usare, ma è bellissimo. Poi. Copertura. Ci sta, ci sta. Sì, raga, mi soffriamo solo sulle cose un po' più importanti. Questa sembra una variazione del jetpack di Iron Man. Altri 100 V-box che ci piacciono. Ipervolo. Ma per quanto ti è andato? Ok. Ok. Poi guardo dopo se ci sono i vari stili. No, bellissima, raga. Bellissima questa. Ok, uno spray. E niente, deve andare per i fatti suoi, sennò non è contento. Ok. Ce la facciamo, raga. Altri 100 V-box. Ah, la lama della cacciatrice. Ok. Questa tra l'altro sembra la stessa skin di prima. Ok. Molto bella questa. Ma cos'è? Ah, emoticon epico, addirittura. Avevano già introdotto sta cosa da... Forse la scorsa season. Ok. 100 V-box. E questa, raga, è molto, molto bella. Molto ignorante, ma molto bella. Vediamo un po' questo. No. Ma cos'è sta cosa, raga? Sciroppati questo. Cioè, vabbè. Tutto a base di sciroppo. Il fuori legge e flapjack cannon. Hanno pure copiato l'immagine di... Dell'altro videogioco, se non sbaglio. Cioè, è simile. Allora, raga, non mi fa sentire i picconi, non so per quale strano motivo. Perciò, vado avanti e poi dopo controlliamo le varie cose. Maeve. Ma quella che c'è nel trailer pass battaglia... No se, sembra... Eh, sembra abbastanza grande come skin. Non bisogna vedere. Vabbè, rispetto a quella di prima... Questo è bello, molto bello. Oh, è bellissima così, raga. Bellissima. Artiglio dell'arpia. Mi dispiace che non ve lo posso far sentire. Oh, invece sì. Ora me lo fa fare. Ok. I capelli reattivi? Va bene. Ma cos'è? Quanti stili ha? Bello. Bello anche il sound. Ok. Tutta reattiva sta skin, raga. Un'altra scia. Spirito guerriero. Vediamo un po' sta skin. Oh, non è male. Non è per niente male. Patto dello spirito. Molto bello questo anche. Poi, vabbè, raga, con le mie skin ci stanno bene tutte. C'è poco da fare. Queste sembrano quelle che c'erano anche nella scorsa season. Leggermente modificate. No copertura. Altri cento di pex. Queste cos'è? No, vabbè, è bellissima sta cosa. Fantastico questo. Hanno fatto pure il remix di potenza stellare. Quella skin che sta per arrivare penso che sarà una di quelle che mi piacerà di più. Ok. Questa raga penso che sarà una delle skin che mi piace di più, però è il modo in cui è fatta. Ah, bellissimo. Ah, si trasforma in così? Vediamo subito. Sarà qua, tanto se si trasforma. Sì, proprio come nel trailer. Oh, ragazzi, secondo me è bellissima sta cosa. Fatta così. Poi ditemi voi nei commenti, ovviamente. Scudo del possente. Allora, già il fatto che l'immagine sia più grande delle altre, questa sarà enorme. Ah no, pensavo peggio. Ok. Non è neanche male di per sé. Ah, diventa così. Ok. Questa raga, secondo me è bellissima. Ah, cioè. Questa penso che lo userò. Ma non c'è Bebioda, no? A me è anche nel livello 100, se non veniamo. Ok. Quindi posso mettere pure il ca... Ma è solo per lui? Non posso dire che aggiunti è per... Ah, sì, solo per lui la puoi mettere. Non capisco perché hanno... Ho aggiunto una marea di stili così. Vediamo questo. Preparazione del guerriero. Ok, ci sta, ci sta. Raga, ci stiamo avvicinando. Lo vedete già? Lo vedete raga? È proprio lì. Eccolo qua raga. È bellissimo. È fantastico questo raga. Penso che giocherò con questo qua, se me lo fai mettere anche alle altre skin. Ci fai in giro con lui. No, no, è bellissimo. Ho fatto poi... Ho fatto strabene. Completa l'incarico. Ah, qua è lo stile aggiuntivo. Non capisco perché mi fa ancora andare avanti. Ok. Ricompense in carico ebili. Ok. Ah, i vari stili delle altre cose. Ok. Pure di patate. Ma che... Inche ragazzi... Burro non incluso. Cosa sto leggendo? Vabbè, raga, questa... Cioè... È stupenda, è stata così. Cattivissima. E infine c'è qualcosa che non so... Ricompense misteriose abbiamo addirittura, raga. Che saranno... Uno standardo, un emote, uno spray, una schermata, un costume leggendario. Copertura, un dorso decorativo, un emote integrato e uno strumento di un'emote. Di raccolta epico. Più che altro, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, no... Ah no, pensavo fosse qualcosa che aggiungevano ogni settimana. Non lo so in realtà, eh. Fine, voglio fare ancora un salto al volo sullo shop perché mi è sembrato di aver visto prima una cosa, ovvero... Che... Vi spoiler, altre virgolette, che è ricomparso dal Durburger e quant'altro, ma guardate qua. Ve li ricordate questi? Squadra Burger... E squadra Pomodoro. E tu ciao, raga. Ho cercato di fare il video il più breve possibile, però non creare proprio un video lunghissimo di reaction. Ovviamente poi guarderemo ancora meglio il pass nella live che farò stasera, dalle ore sette e un quarto, perché c'è. Probabilmente creerò qualche contest dove regalerò skin o il pass battaglia stesso, quindi mi raccomando, raga. Ancora una volta, vi ringrazio per tutti coloro che mi state supportando come creatore, siete veramente tantissimi. Se volete supportarmi, il codice è questo qua, jrn-channel-ynt, grazie mille che lo farà. Mi raccomando, ricordate di taggarmi che vi riposto ovviamente su Instagram. Detto ciò, grazie mille tutti per la visione e alla prossima. Ciao a tutti ragazzi.